Il territorio di Genosa persiste ad oltre tre mesi di distanza dalle sondazioni dei fiumi dei primi di marzo, una condizione di grande sofferenza, condizione che investe direttamente la sicurezza del territorio e che coinvolge centinaia di aziende e famiglie ridotte sull'orlo del fallimento per l'assenza di risposte istituzionali adeguate, che non possono più essere attese, posto che se non si realizzano con la massima urgenza i lavori di messa in sicurezza del territorio, si corre il rischio che le prossime piogge possano produrre danni ben più gravi di quelli già subiti. E la denuncia a più voci che proviene dal Comitato Difendiamo le terre ioniche, che quest'oggi ha fatto tappa in provincia. Noi saremo mercoledì mattina alle ore 10 al Senato a incontrare i parlamentari lucani e pugliesi, invitandoli tutti, per un'azione comune perché sblocchi la questione dell'ordinanza. Ci sono proposte concrete, stiamo invitando la Regione Puglia, le province e quattro comuni, fra cui quello di Ginosa. C'è bisogno che la Regione Puglia, come ha fatto la Regione Basilicata, costituisca un tavolo, serve una cabina di regia in cui chiamare gli enti locali, la provincia, i comuni, tutte le parti sociali per coordinare le iniziative e soprattutto confrontarsi su come si esce da questa emergenza. La provincia farà il suo compito che è quello di cercare di assicurare la presenza per ripristinare la sicurezza del territorio perché c'è stato un cambio completo di profilo, di disegno proprio del territorio, soprattutto in agrodiginosa e quindi bisogna ripensare a rimappare il territorio, a riguardarlo sotto l'ottico della sicurezza e del successivo sviluppo. Siamo quindi più che disponibili ad affiancare i cittadini e le altre istituzioni.